ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nella mod 26 quando venite a sbloccare la campagna a prendere la quest qui dal sergente knoxx vi da anche una quest il cammino dell'eroe quella quest è un'avventura che ci troviamo qua vedete questa qua praticamente dobbiamo completare tutti questi step qui ok ci dirà che dobbiamo andare a parlare con corbin che lo troviamo qua nel nella sala dell'avventurieri quindi entriamo qua e andiamo a parlare con corbin in pratica anche lui ci dirà di fare delle quest cioè ci darà a sua volta delle quest da completare fino praticamente a sbloccare eccolo qua corbin vedete e una volta sbloccate e fatte completate queste le quest che ci da lui ci dirà di andare qui dentro a fare un addestramento e poi ci sbloccherà la bacheca nella bacheca ci saranno a seconda del vostro livello e di quanto avete completato nel gioco ci saranno dei click da fare faccio per dire facciamo un esempio raggiungi il livello 10 raggiungi il 10 per cento di rinvigorimento delle cavalcature il 20 per cento 30 40 50 e via dicendo no stesso discorso vale per il rinvigorimento dei compagni oppure gli emblemi mitici tutte queste robe così ok una volta fatti click completate tutto ok fino a dove potete completare e poi una volta che avete fatto tutto andate tornate qui nelle avventure e guardate cosa vi manca da fare ok per esempio io con tutti i click mi sono ritrovato questo qui i primi passi 7 di 7 ok e qua invece ero tipo a 3 di 11 per esempio quindi ieri per esempio mi sono messo a fare le cose che mi diceva qua ad esempio mi sono messo a fare le code per il dungeon casuale e via dicendo quindi a me in questo momento mi manca tre quest di si bella raffinare 500 mila diamanti astrali grezzi le code delle schermaglie le ho fatte le code del dungeon casuale piccolino ovvero rdq le ho fatte adesso devo fare cinque prove casuali le rtq e poi dovrò fare 5 rack barra rec ok una volta fatte queste potrò avanzare nella nella campagna per così dire no nell'avventura come vedete qui ho già completato primo dono maestro secondo dono maestro e terzo dono maestro perché queste tre erano facevano parte dei click della bacheca ok i doni maestro sono questi qua in pratica ci dice una bacheca ci dirà raggiungi primo dono maestro raggiungi secondo dono maestro e raggiungi il terzo dono maestro se voi avete già basta semplicemente che cliccate e e ve li completerà se invece non le avete cliccati scusate se non le avete completate invece vorrà dire che dovrete appunto raggiungere i requisiti per poter sbloccare il primo il secondo e il terzo dono maestro ok di conseguenza per sbloccare i doni maestro dovete arrivare come dice qua qua sotto non ci riesco ad andare però qui sotto in bassa sinistra ci dice rango 1 ovvero il dono maestro finale ci vogliono 10 doni il secondo 30 doni e il terzo 60 doni di conseguenza vi dovrete completare le altre avventure che danno i doni per esempio adesso qui non me li mostra più però alcune avventure danni doni oppure andare nelle campagne e completare i doni ok se siete piccoli partite da quelle piccole anello del terrore eccetera e sbloccate i doni ok questi qua tornando all'avventura qui allora una volta completato tutto potrete riscattare le ricompense che sono queste qua sotto ok ogni step alle sue ricompense come potete vedere che adesso andiamo a guardare la cosa bella di questa avventura è che ci fa rendere conto che possiamo raggiungere il livello oggetto 90.000 ok quindi questo teoricamente al momento dovrebbe essere il massimo del livello oggetto ok o poco più di 90.000 ok non lo so sinceramente quanto è il livello oggetto massimo però qui si dice 90.000 vuol dire che possiamo arrivare a 90.000 poi qua vedete ogni step praticamente sono i livelli delle cose che 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 possiamo equipaggiare per esempio qui ci dice tutto raro vedete emblemi rari ovvero blu qua per dire tutto non comune verde qua invece tutto epico viola qua tutto leggendario arancione e qua tutto mitico azzurrino ok quindi detto questo andiamo a vedere le ricompense allora qua abbiamo un pacchetto avanzamento scelta leggendario ci da 1 2 3 4 cavalcature e 4 compagni ok non è che ce li da tutti ce lo dobbiamo scegliere ok abbiamo il destrero scheletrico la chioccia la lumaca la chioccia la barra drago imperiale il tiranosauro se non avete nulla io vi consiglio il tiranosauro poiché aumenta i danni del 10 per cento a tutto il gruppo il destrero scheletrico non mi ricordo cosa fa in ogni caso se volete sapere quale cavalcatura fa per voi basta che la scrivete tenete a mente quello che volete prendere andate all'asta scrivete il nome dell'oggetto barra cavalcatura compagno e lo scrivete cercate e vedete che cosa fa poi ci dà il lupo mannaro il come compagno il cucciolo di orso gufo lo scudero fedele il cane da guerra ok questo il primo step il secondo step ci dà un emblema blu 25.000 diamanti astrali grezzi 25 gettoni potenziamento cavalcatura e 30 gettoni compagno mi sono dimenticato di dire il resto qua ci dà i sigili del nord e 100.000 diamanti astrali grezzi da raffinare terzo step emblema viola un glifo 50 gettoni cavalcatura e 30 gettoni compagno quarto step dovrebbe essere il quarto questo sì quarto step a leggendario no epico a viola ci dà lo stesso pacchetto che abbiamo avuto all'inizio quindi se eventualmente vi serve che ne so il tirannosauro come cavalcatura e il cucciolo di orso gufo come compagno potete prenderli tutti e due ok comunque anche qui tutto epico dobbiamo raggiungere gli emblemi collari incantamenti tutto epico e ci dà appunto il secondo pacchetto a scelta l'acqua alescente e punti raffinazione tramite questa pietra quarto quinto step roba leggendaria tutta arancione ci dà tre glifi della potenza un'acqua alescente e un'altra pietra raffinazione ultimo step invece ci dà cinque chiavi incantate manto della leggenda di neverwinter che cambia aspetto un titolo e questo pacchetto qua mitico dove possiamo trovare una due tre quattro cavalcature mitiche tra leone di neverwinter ali da demone calderone per le fatture il calderone le mongolfiere allora per quanto riguarda il calderone le mongolfiere potete trovarla all'asta per cosa fa le ali da demone non mi ricordo sinceramente io mi ricordo che erano arancioni però 15 mitiche quindi non ne ho idea ah beh sì magari sono arancioni ma si possono portare a mitiche perché io mi ricordo che si da si trovavano si prendevano tramite una campagna a tempo mi pare ed erano arancioni ovviamente si potrebbero portare a mitiche ecco perché ce le da direttamente a mitico leone di neverwinter uguale è un'altra cavalcatura delle campagne a tempo dove ci dava questa cavalcatura mitica infine ci da uno due tre quattro i quattro compagni dorati mitici ovvero la capra il cucciolo di bulette il gatto dorato e il corvo profondo che sono i corrispondivi di delle statistiche forte guarigione in uscita vantaggi in combattimento e consapevolezza tutte 7,5 per cento di queste statistiche quando le equipaggiate nello slot del compagno ok sono universali quindi le potete mettere in qualsiasi slot che sia uno slot di attacco difesa utilità e sono molto utili e al momento all'asta costano costano abbastanza non so non mi ricordo di preciso ma penso intorno ai 5 milioni credo o 3 milioni e mezzo non mi ricordo e poi infine ci dà un emblema mitico a scelta ok non so se l'ho già detto però appunto la cosa interessante che possiamo arrivare a 90 k di livello oggetto ok non pensate che sia una cosa facile semplice arrivare a 90 mila perché vuol dire essere end game ok poi vestiti bene o male non lo so inteso con l'equipaggiamento giusto non ne ho idea però ecco dovete avere quasi tutto al massimo ok quindi diciamo è tutta roba che riguarda livello oggetto io per esempio ora ho questa qui da 2000 di livello oggetto come testa se volessi di più a facciamo un altro esempio poiché non ho non c'è una testa che vale di più di livello oggetto prendiamo gli stivali allora gli stivali ciò questi da 1850 di livello oggetto se volessi aumentare per arrivare a 90 mila potrei mettere questi che sono 2050 di livello oggetto ok per quello dicevo vestiti bene o male fa la differenza perché in questo momento io sarei vestito bene tramite questi stivali che che il bonus che mi danno mi fa comodo per questa build però se dovesse arrivare a 90 mila ecco non ci riuscirei perché appunto mi serve più livello oggetto e quindi dovrei andare a mettere questi che però per quello che faccio con questa build sono per me stivali inutili ok questa la differenza tra essere vestiti bene o male a seconda di quello che fate ecco cosa volevo dire allora un attimo che mi sono perso allora ecco l'ultima cosa questo qui manto della leggenda di neverwinter che è un appunto un cambio aspetto è anche molto carino secondo me come vedete sono tipo tipo un mantello stile ali da drago ok questo qui se lo volete allora in passato ci poteva fare adesso non lo so però ecco per esempio io dovrei già averlo credo a meno che non me l'abbiano tolto allora qua collo modifica aspetto ecco questo qui vedete questo qui è il mantello del drago imperiale superiore che lo trovate all'asta come vedete le ha il mantello è uguale a quelle a quel mantello che troviamo nel coso nella alla fine dell'avventura quindi se volete già cambiare l'aspetto con con questo mantello lo potete fare basta andare all'asta scrivete andate su occupaggiamento scrivete imperiale in dovrebbe esserci vediamo esatto mettete anche magari collo ecco collo non l'ha trovato serio imperiale dato che non lo trova lasciamo tutto equipaggiamento ah ok non c'è ecco perché non lo trova lol comunque dov'è aspetto collo modifica aspetto ecco questo qui mantello del drago imperiale superiore poiché la campagna si prendeva nella campagna del del come si chiama del pozzo dei draghi poiché la campagna del pozzo dei draghi non c'è più come facciamo per andare nel negozio di quella campagna ok niente allora proviamo dato che non si può più prendere tramite la campagna e tramite il negozio della campagna perché la campagna non c'è più è diventata un'avventura e non c'è nemmeno all'asta questo coso imperiale questo collo imperiale vediamo se c'è qua perché qua c'è un mercante della vecchia tirannia vediamo cosa fa se è uguale o se l'han cambiato andiamo da questo ok questo non c'è non è non è più un mercante ok proviamo a viaggiare adesso io so che magari non vi interessa però mi è venuto il pallino a me di capire se è possibile ancora andare nel negozio della del pozzo dei draghi quindi andiamo qua al pozzo dei draghi andiamo a parlare con i mercanti e vediamo cosa ci dicono i mercanti sono qua ok non ci sono più ce n'è solo uno una volta ce n'erano tre quindi a quanto pare no mi dispiace ragazzi non potete più prendervi quel quel cambio aspetto per così dire in realtà era un set perché è comunque droppabile facendo che ne so lo smout oppure facendo la scesa di tiamat e a volte capita vedete cinturone dell'onore imperiale 3d set mantello del drago imperiale che sarebbe questo qui dove è mantello del drago imperiale superiore vedete io lo droppai a suo tempo e trasformai in cambio aspetto imperiale vedete cinturone dell'onore imperiale superiore questa la cintura e poi non c'è altro purtroppo anche perché ho messo già tutto equipaggiamento e quindi o li hanno tolti o non lo so comunque ecco purtroppo non lo potete più prendere peccato e niente quindi vi dovete se lo volete che vi piace quel mantello lo dovete per forza acquisire completando tutte le avventure arrivando a 90.000 ok quindi niente questo è quanto riguarda la nuova avventura spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace e niente ci sentiamo al prossimo video ciao